Ciao a tutti ragazzi, ho deciso di dedicare a questo video, a tutti i pallanotisti che stanno soffrendo lontani dalle loro piscine, e in particolare alla società Rarinantes-Legnano. Sappiamo che stiamo attraversando un periodo difficile e spero che questo video vi dia un po' di gioia. Grazie a tutti. 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 Marti? Sì? Ci sono da lavare i vetri, vieni! Arrivo, amore mio! So, so you think you could tell, Heaven from Hell, Blue skies and pain Can you tell a green feel On a cold steel rail A smile from the van Ho sbagliato alla fine, quindi ero sconcentrato Did they get you to train? Yeah 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 Yeah